Il tema continua a essere quello che bisogna dare una soluzione, una contrapposizione che si è creata tra il lavoro e la salute e penso che il lavoro che bisogna fare è quello che si determinino i vincoli per l'impresa attraverso l'autorizzazione integrata e si determini su quella base qual è il livello di investimenti perché temo che il piano presentato dall'azienda fosse insufficiente a dire che si andava a un'effettiva ambientalizzazione dell'impianto.